è il principio di settembre ci si attende ancora caldo e afa ma nella val sinni a francavilla nel cuore della basilicata a pochi passi dalla calabria c'è un ubifragio il classico acquazzone estivo a bagnare l'esordio del bitonto nel girone h di serie d parte dalla lucania dunque il cammino di nero verdi che si dai primi passi mossi a luglio tra il raduno di bitonto e il ritiro marchigiano di camerino si presentano con la voglia matta di fare grandi cose e perché no magari migliorare il quarto posto in classifica della scorsa stagione alla tolda del comando c'è roberto taurino una vita d'arcigno difensore oggi allenatore giovane e in cerca di gloria una scommessa per tanti non per il presidente francesco rossiello il bitonto parte a razzo e nonostante la pioggia battente archivia alla pratica francavilla in poco più di un quarto d'ora la zampata di terrevoli la botta da fuori di biasson l'incornata di bomber chicco patierno i nero verdi hanno un impatto devastante sul campionato e subito suonano il proprio squillo inevitabile quando sai che le tue rivali principali si chiamano foggia taranto audace cirignola e casarano più che una serie d a detta di tutti è una vecchia c2 o anche una quasi serie c nella ripresa accorce il francavilla figliola chiude la porta doppia mandata e il 3 a 1 finale è sinonimo di una squadra già sul pezzo che mette alle spalle subito l'eliminazione in coppa italia di una settimana prima contro la fidelisandria e l'abbandono di lo iodice che preferisce cirignola al progetto bitontino la prima in casa è nel segno della contestazione i tifosi nero verdi espongono uno striscione contro l'amministrazione comunale perché al città degli ulivi staziona in maniera desolante una curva da 644 posti nuova casa degli ultras ma che non trova la sua realizzazione per i ritardi burocratici e le incompressioni tra chi l'ha acquistata la società bitonto calcio e chi governa la città sul campo invece il bitonto non sbaglia il colpo i campani del gladiator squadra tosta scorbutiche arcigna vengono battuti per 2 a 0 apre le marcature nel primo tempo il solito chicco patierno sul calcio di rigore chiude la contesa in pieno recupero nel finale turubiason il bitonto va fa due su due anche se qualcuno dagli spalti mugugna per non aver chiuso prima la partita mugugni che diventano più fragorosi all'indomani del derby di fasano non è mai una partita banale quella contro i biancazzurri ma al vito curlo di fasano stadio intitolato ad una giovane promessa del calcio fasanese prematuramente scomparso a soli 20 anni a causa di un tragico incidente stradale il bitonto fallisce la lungo in vetta la classifica nella sfida che oppone due delle tre capilista a punteggio pieno partita ruvida maschia anziché no il bitonto cede per 1 a 0 recrimina per le scelte arbitrali gol nato da punizione a 2 in area molto dubbia due contatti sospetti sull'attanzio nell'area di rigore dei padroni di casa e medita sui motivi di uno stop inatteso mugugni abbiamo detto in precedenza che diventano contestazioni più aspre dopo l'inopinata inattesa sconfitta casalinga contro il modesto agropoli squadra giovane che passa in vantaggio dopo due minuti e riesce a portare in campagna una vittoria che manda in crisi il bitonto vani gli assalti neroverdi tra gol annullati ed errori arriva la seconda sconfitta consecutiva e i primi dubbi della piazza ma davvero questo bitonto è pronto per lottare per un campionato di vertice ma si sa mai dare per morto un leone appena ferito e quello neroverde sapere alzarsi è molto presto